Sale la febbre ad Aci Catena per il voto consigliare di questa sera. Il comune catenoto, molto probabilmente, come è avvenuto nella vicina Aci Reale sei giorni fa con voto unanime, si chiamerà fuori dalla città metropolitana di Catania ed entrerà nel cosiddetto libero consorzio ibrido, quello che contiene tutti i comuni dell'ex provincia di Catania che non fanno parte dell'area metropolitana. Ancora, legge alla mano, la strada per un eventuale libero consorzio delle Aci è lunghissima, visto che, a differenza di stasera, quando basterà la maggioranza semplice, in quel caso ci vorrà la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio e un referendum confermativo.